È la sensualità che sboccia con una nuova bellezza. Passo dopo passo ti prende, avvolge. È la festa dell'estate Lancome. Bellezza e sensualità saranno tuoi complici. Fatti sorprendere dalla festa dell'estate con la borsa Glamour o la trussa in regalo. Vieni a scoprirle nelle profumerie Cocoon. Regolamento disponibile presso la società promotrice. Operazione valida dall'1 al 30 luglio 2006 all'acquisto di prodotti Lancome.